Ciao a tutti e benvenuti nel nostro gioco No al Bullismo. Questo gioco è stato creato per contrastare il bullismo. Siamo arrivati in una classe con un sacco di alunni e c'è anche il pullo. Benvenuto nel gioco No al Bullismo. Leggi attentamente le regole. Ogni porta è un livello, affronta il bullo che è all'interno. Non puoi giare armi e non puoi picchiare i bulli. Non puoi ritirarti dalla guerra contro il bullismo. Ora comincia a giocare, vai nella classe numero uno. Cosa faresti in questo momento? Perciò di fermare il bullo? Oh, mi godrai la scena divertente. Fa molto ridere, quindi io mi godrai la scena divertente. Oh no, mi ha mai fatto tutto, se no sono ricaduto nel vuoto. Vabbè, adesso l'obiezione è cercare di fermare il bullo. C'è il passaggio. Esatto. Esatto. Il bullismo va fermato. Ah, no, mi ha preso. Attivo bullo. Sono queste cose tipiche che fanno i bulli. Ci spingono giù. Ed è per questo che noi dobbiamo fermarli. Cosa comporta il bullismo? Tristezza e razzia o felicità e gioia? Sia rabbia, direi. Sei molto felice. Era la risposta esatta. Secondo me il bullizzato non si sente molto felice in quel momento. Siamo giunti in un labirinto. No, è quella sbagliata. Sì, abbiamo vinto! Complimenti, hai completato il minigame. Hai sconfitto il bullo. L'hai sconfitto. Ora il bullo diventrà tuo amico. Sì!